La pittura e i libri La pittura e i libri La gente, la terra, la storia Anche in questo volume ci sono degli episodi che raccontano la storia del nostro paese E poi c'è un terzo volume Come vedete i volumi diventano sempre più pesanti Perché sono tante le storie che ho raccontato In questo volume verde si divide in capitoli C'è il capitolo delle donne, il capitolo dei bambini, il capitolo dei magistrati Il capitolo della società civile Il capitolo dei giornalisti E ho cercato di raccontare con molta attenzione tutti i fatti Come farebbe uno storico Come farebbe un giornalista E in questi volumi si può notare tutta la passione civile Che ho messo nella mia... Un'altra particolarità della mia pittura è il numero civico Il numero civico rappresenta E' ormai una firma Rappresenta anche il logo del mio quadro Il numero civico rappresenta L'anno della strage L'anno della nascita Io uso questo numero civico Come un punto di riferimento Il numero civico rappresenta Rappresenta un punto importante Per esempio poi c'è un'altra particolarità Nei miei quadri Questo colore azzolo E' il colore azzurro E questo colore veniva utilizzato Nei paesi produttori di vino Nei paesi agricoli Veniva utilizzato questo colore azzolo Nelle pareti E queste pareti Delle case Si vedeva questa stratificazione Del colore Ma la cosa bella che mi ha colpito era La stratificazione Cioè ogni anno Venivano dipinte le pareti Per rinnovare la parete della casa E si creavano Delle stratificazioni di colore Una sopra l'altra E da questa stratificazione del colore Si vedeva Gli anni L'invecchiamento E il passare del tempo Attraverso questa patina Patina sopra patina di colore Questo mi ha colpito molto E questa idea del colore Della patina Del colore azzurro L'ho riportato nelle tele Infatti in molte mie opere C'è la presenza di questo colore azzolo Ma questa è una curiosità E' che il colore azzolo Cioè questo che mettevano Serviva per allontanare i moscerini Cioè era funzionale Perché loro dipingevano la parete Avevano sempre questa parete affrescata Era nuova Ma nello stesso tempo L'azzolo serviva Aveva questa funzione E oltre vedete al numero civico Il numero civico sta a indicare L'anno della strage Vi faccio un esempio In questo quadro raccontato L'uccisione di Pasqualino Americo Era un sindaco ucciso nel 57 Un sindaco perché aveva detto no alla mafia E cinque uomini a cavallo nel 57 Lo avevano ucciso Perché il capo mafia Un certo Vannisacco Voleva avere la tessera della democrazia cristiana E il segretario Allora sindaco Aveva negato la tessera al capo mafia Perché la mafia aveva capito Quanto era importante Il potere politico Perché voleva il passaporto Vannisacco Cioè traghettare dentro la politica Il sindaco si è ribellato Ed è stato ammazzato Ecco per farvi capire Questa è la micro storia E in questa micro storia Spesso questa micro storia non si conosce Non c'è nei libri di storia E io tutte queste ricerche Le ho fatti diventare opere pittoriche Per essere conosciute alle nuove generazioni Volevo parlarvi di questo quadro Questo quadro l'ho dipinto subito dopo la cattura di Provenzano Provenzano è stato catturato il 6 aprile del 2006 Subito dopo la cattura ho realizzato queste opere Vedete, pensate Provenzano dopo 43 anni di latitanza E nel quadro un po' fa riferimento alla pop art Ecco, quel numero civico è sempre presente nei miei quadri C'è anche il volto del mafioso Il volto del mafioso durante la cattura E poi ci sono anche gli articoli del giornale dell'epoca Per esempio quest'altro quadro qua è il covo di Provenzano E poi Wanted Per esempio questo qua è il papello I 12 punti che la mafia voleva imporre Poi c'è la cattura di Totorina Poi ci sono per esempio questo il dottore Navarra Il medico che aveva ucciso il bambino che aveva visto Era stato testimone perché si trovava nel momento sbagliato E durante la cattura di Faccio Rizzotto Il bambino aveva visto ciò che non doveva vedere E poi è stato ammazzato Per esempio vedete qua la strage di Firenze Dove la mafia voleva colpire la cultura del nostro paese Anche qua ho realizzato subito dopo Vedete la data 1993 E c'è questo bambino Un bambino che muore giovanissimo E ha colpito una famiglia di Firenze Terrore nella città di Firenze Vedete questo quadro che rappresenta La drammaticità dell'orrore della mafia Poi ci sono le due stragi Quella del 92 Quella in Via D'Amelio E quella a Capaci Questi quadri sono diventati di dominio pubblico Tanti ragazzi li utilizzano per le loro tesine E vedete c'è sempre il mio numero civico Che rappresenta l'anno I due numeri Ma perché il numero civico? Perché il numero civico è un numero Che a casa ce l'abbiamo tutto Il numero civico E quindi la storia appartiene a tutti E la storia non deve essere dimenticata E quindi il numero civico Si collega a un pezzo della nostra vita Quindi ogni volta che accade un fatto Diciamo criminale Un fatto mafioso E un fatto che riguarda tutti gli italiani Per esempio questa 85 Un'altra strage In questo volume ci sono Ho raccontato Per esempio guardate Questa è la strage di Bologna nel 69 C'è sempre il numero civico Poi questo è il 7 di luglio del 1960 Per esempio andiamo indietro Questa è la strage di Bello Lampo Qua vengono uccisi dei carabinieri Comunque come vi dicevo I libri che ho pubblicato Hanno una loro importanza Perché i libri Si mettono Cercano di mettere Da punto di vista cronologico Le date e le opere Per avere una corretta lettura Della nostra storia Di questo paese Io vi ringrazio Per questa intervista Ringrazio lo storico E critico Giorgio Grasso Perché sta facendo un buon lavoro Perché grazie alla cultura Grazie alla diffusione della cultura Ma soprattutto Soprattutto mettendo in evidenza La bellezza Solo la bellezza Può sconfiggere il malaffare E può ridare al nostro paese Quella freschezza di democrazia Vi ringrazio Grazie 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 Grazie